Gentili telespettatori buona giornata. I contagi covid aumentano e aumentano purtroppo anche le ospedalizzazioni sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Un giorno più 8, il giorno dopo meno 7, comunque sia c'è forse un'inversione di tendenza anche per le ospedalizzazioni e questo è anche normale perché se questa Omicron 2 è contagiosissima e contagia moltissime persone, anche gli ospedali, anche se è meno grave, meno pericolosa, comunque gli ospedali si riempiono con tutti questi contagi. Ma per Walter Ricciardi, quello che è il consulente di Roberto Speranza, secondo lui si mette a rischio la Pasqua perché la variante Omicron 2 è in continua espansione e così Walter Ricciardi mette in guardia sulle misure di prevenzione necessarie, nonostante la fine giuridica dello stato di emergenza. Il docente di igiene all'Università Cattolica mette le mani avanti e dice che l'onda di epidemia è ancora in espansione, c'è ancora una crescita come indica il valore RT di questa settimana che si attesta all'1,24. L'RT 1,24 vuol dire che il virus è in espansione. Cosa vuol dire 1,24? Che una persona che ha il virus ne contagia più di una, 1,24 persone. Se questo RT fosse a 2 vuol dire che ogni persona ne contagia 2, mentre se l'indice è a 0,9 vuol dire che il virus è in diminuzione. C'è una dinamica che dobbiamo guardare con attenzione ed essere responsabili, utilizzando le misure di protezione che ormai conosciamo bene, nonostante la fine giuridica dell'emergenza, dice Walter Ricciardi, docente di igiene all'Università Cattolica, consigliere di Speranza, lo dice all'agenzia di stampa ADN Cronos. Per Ricciardi in questa situazione di oggi tutti i messaggi di smobilitazione che invitano al Liberi Tutti sono prematuri e non adeguati a questa fase epidemica. Io dico però che comunque, anche se le terapie intensive si stanno magari leggermente di nuovo incrementando nei numeri, dobbiamo dire che le terapie intensive sono intorno a 470 persone in tutta Italia ricoverate e meno di 10.000 nei reparti ordinari. Ricordiamo che 470 fino a due mesi fa erano 2.000 persone, quasi 4-5 volte di più. Pertanto quello che vi dico è questo, i contagi aumentano ma bisogna sempre contestualizzare. Se i contagi sono molto alti, l'indice RT è alto ma le ospedalizzazioni comunque rimangono contenute non c'è da preoccuparsi, quindi il Liberi Tutti alla fine dopo due anni non è che puoi continuare a stare e non fai questo e non fai quello. Insomma bisogna anche ricominciare a vivere, poi proprio visto che adesso questa Omicron sia molto più contagiosa ma molto meno grave. Però questi virologi, questi medici, sembra che per loro non può finire così perché si vanno a spegnere i riflettori su di loro. E aggiunge Ricciardi che l'uso della mascherina, fino a che ci sarà la pandemia, è inderogabile. Nel piano del governo c'è la possibilità di togliere le mascherine al chiuso dal 1 maggio ma c'è anche la garanzia, sin da parte del Presidente del Consiglio, sia da parte del Ministro della Salute di monitorare con grande attenzione la curva epidemica e decidere di conseguenza se eventualmente bisogna rimettere delle restrizioni. In aprile dice monitoreremo quindi ma mi sembra molto difficile poterla togliere al chiuso dal 1 maggio. A dirlo alla DN Crono Salute Walter Ricciardi, come dicevamo tutti i paesi che hanno dato e scelto di togliere la mascherina al chiuso dice Ricciardi, hanno dovuto fare marcio indietro e ripristinarla. Ma proprio tutti, dice l'Austria, la Francia, la Germania Ricciardi ha sottolineato inoltre che oggi, seppure è finita l'emergenza giuridica l'allarme sanitario resta e dobbiamo stare molto attenti, dice a non sottovalutarlo perché ci troviamo di fronte a una variante contagiosissima la più contagiosa dall'inizio della pandemia Dobbiamo cercare di gestirla questo vuol dire ripresa delle vaccinazioni soprattutto tra le fasce di età fragili i non vaccinati e i vaccinati sono con due dosi serve ancora un comportamento responsabile e questo vuol dire anche uso della mascherina questo medico non vuol vedere però un aspetto lui parla solo di numero di contagi ma non vuol vedere quello che sono le ospedalizzazioni che è la cosa più importante, come dice Bassetti dire 70.000 contagi non vuol dire nulla se non è contestualizzato poi il numero dei contagi dipende da quanti tamponi si fanno da oggi in poi il numero dei tamponi dovrebbe crollare drasticamente per poi subire un ulteriore crollo dal primo di maggio quando il tampone rimane solo per chi deve andare a lavorare dopo i 50 anni fino al 15 di giugno e così quindi quello che vi dicevo è che realmente guardare i contagi o i contagi di qui e i contagi di là non ha senso bisogna guardare le ospedalizzazioni il numero dei contagi in realtà non ha più nessun senso ogni giorno 75.000 o 50.000 perché se la malattia è meno grave non ha più senso parlare continuamente di contagi ma bisognerebbe parlare solo di ospedalizzazioni oggi i ricoverati sono questi punto e basta non quante quanti sono i contagi io vi ringrazio comunque per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale ricordatevi che c'è anche l'altro canale di teleitalia qui su youtube che si chiama teleitalia seconda rete dove trovate video di politica notizie fai da te poi i video di questi due canali teleitalia e teleitalia seconda rete li trovate condivisi dopo qualche ora nella pagina di facebook che si chiama teleitalia nella community di questo canale trovate poi dei sondaggi a cui partecipare commentare dei link delle notizie a cui non ho magari fatto a tempo a fare un video e poi tutto questo come vi dicevo trovate poi su facebook se vi interessa condividere ci vediamo tra 20 minuti se non avete nient'altro niente di meglio da fare per un altro video buon proseguimento di giornata a tutti quanti e grazie per esservi iscritti molti al canale in questi due anni e mezzo di vita che ha teleitalia grazie e arrivederci grazie a tutti